video ripreso in full hd 60 fps con huawei p smart z 2019 smartphone dotato di flip camera vediamo un po come si comporta nella parte video contro sole netto giriamo vediamo un po la messa a fuoco non male bisogna un po centrare il soggetto rimesso a fuoco nella media in fase di lavaggio corto nostre solite calamitine vediamo la zona con poca luce ok